8 gol scaccia pensieri ed è semifinale. L'Ital Service è ancora una volta fra le quattro pretendenti allo scudetto di calcio a 5. Coach Colini aveva suonato la sveglia e la risposta è arrivata. Al palladino pizza l'Ital Service ha battuto 8 a 3 la signor prestito Matera in gara 3 dei quarti di finale. Doppiette di De Oliveira, Borruto e Canal e Reti di Marcellini e Tony Dandel per una Ital Service che guadagna la semifinale dove affronterà la vincente fra Feldi, Eboli e Padova, accoppiamento al momento bloccato da un focolaio di Covid al pari della data della semifinale. E sarà semifinale anche per il volley del territorio, quella conquistata dalla Megabox Vallefoglia che entra tra le quattro pretendenti per la promozione in Serie A1 di pallavolo dopo la vittoria per 3 a 2 su Soverato ottenuta al Palladionigi di Montecchio. Una semifinale che ora si giocherà contro Sassuolo, gara 1 mercoledì in terra emiliana. Non si è invece disputato nel calcio lo spareggio per restare in Serie C fra Alma Juventus Fano e Imolese. I Granata viaggiano ora a tamponi quotidiani dopo i casi di positività al Covid-19 emersi giovedì che hanno indotto l'Asur a intimare l'alt alla disputa del match. Probabile che la partita venga giocata sabato 22 maggio. Grazie a tutti.